A livello strategico il Lazio sta puntando moltissimo sul turismo esperenziale e a lei chiedo anche quali sono le caratteristiche socio-economiche dell'emigrazione laziale, quali sono le peculiarità che ci aiutano e delle quali dobbiamo far memoria anche per fare un'adeguata promozione dei territori. Ti chiedo Letizia anche di parlarci del tuo libro perché so che oltre a fornire una fotografia del fenomeno del turismo delle radici è anche un importante punto di riferimento come strumento tecnico per operatori intermediari del settore però anche per i turisti, per chi desidera vivere un'esperienza delle radici. Con queste permesse lascio a te la parola. Grazie per l'invito, assessore Corrato, grazie anche all'organizzazione impeccabile di questo evento. Allora io sono, mi ricollego all'intervento precedente perché sono in realtà una turista che è andata alla ricerca delle proprie radici negli Stati Uniti, nel Nord America è andata alla ricerca dei propri parenti nel 1991 e all'epoca creiamo un video artigianale con cui presentavamo la nostra famiglia ai nostri parenti che avevamo rintracciato attraverso le lettere che un mio prozio che non è mai tornato inviava a sua sorella, cioè mia nonna. Quindi è partito tutto di là, poi io mi sono occupata di altro però quel seme dell'emigrazione, della grande storia di emigrazione della mia famiglia ha fatto sì che io poi mi occupassi proprio di questo tema e lo approfondissi. e questa è un po' una premessa per... Scusate vado avanti, cerco di... Sì. Ecco, allora, da turisti a rutisti, perché? Perché io, proprio forte di questa grande tendenza che sentivo di avere dentro di me nel cercare, nell'assecondare il richiamo alle radici, perché è un vero e proprio richiamo non mi sentivo turista, anche pensando agli Stati Uniti, non mi sono mai sentita turista ho sempre cercato l'esperienza ovunque andassi e quindi ho coniato questo termine che viene dalla natura, il radicamento in natura e cosa si intende? In modo particolare dopo questo periodo pandemico si intende proprio la capacità delle piante di rigenerarsi nonostante le tempeste, nonostante tutto l'emigrazione è sempre stato un punto di rottura col proprio passato quindi abbiamo la possibilità attraverso il routing applicato al turismo di cercare le radici, ma non solo le radici che sono fuori di noi ma anche di cercare noi stessi e quindi di modificarci, di trasformarci e di rigenerarci attraverso la ricerca delle radici Partiamo proprio dai numeri, dai numeri proprio basilari quelli che insomma si dice sono 80 milioni discendenti italiani nel mondo ma gli espatri dal 1861 dall'unità d'Italia agli anni 70 parliamo di 30 milioni, quindi parliamo di 30 milioni di teste che sono partite e andate i paesi con maggiore numero di oriundi sono il Brasile con 25 milioni si pensi a San Paolo che è la città più grande italiana nel mondo si dice e l'Argentina adesso sono aumentati di 2 milioni quindi aumentano gli italiani perché stiamo dando i passaporti sono 22 milioni oggi come diceva Vanessa e negli Stati Uniti 10 milioni a seguire l'Europa con la Francia, la Svizzera, la Germania, l'Australia e per il Lazio vedremo anche molto bene la Gran Bretagna e anche perché questa slide vuol dare un colpo d'occhio sul fenomeno migratorio che riguarda tutte le regioni italiane pensate anche la Valle d'Aosta regioni che noi non penseremmo abbiano flussi migratori e questi sono numeri che riguardano solo gli iscritti all'aire cioè all'archivio dei residenti all'estero quindi al registro dei residenti all'estero e non a tutti i discendenti, a tutti coloro che poi vedremo nelle varie generazioni rappresentano gli italiani all'estero quindi parte di quegli 80 milioni soffermiamoci un po' sul Lazio quindi nella parte a sinistra vediamo quali sono i paesi che sono stati di maggiore destinazione per i laziali e sono il Brasile, l'Argentina, appunto il Regno Unito gli Stati Uniti d'America e a seguire i paesi europei soltanto Brasile, Argentina, Regno Unito e Stati Uniti d'America rappresentano il 50% dell'emigrazione laziale però l'emigrazione laziale rispetto alle altre regioni ha delle peculiarità perché nel corso della storia e anche in virtù della storia millenaria di Roma c'è sempre stato un rapporto tra Roma quindi la centralità di Roma e la sua provincia il che ha significato che questi flussi che noi vediamo essere andati all'estero sono stati accompagnati da tante vicende politiche politiche anche legate a occupazionali e anche alla storia stessa di Roma che ha visto anche vicende molto legate a intere colonie soprattutto nel periodo pre-guerra e nel dopoguerra, nel novecento che hanno visto una pressione demografica particolarmente forte nelle aree provinciali della provincia di Roma e che hanno poi portato grandi flussi verso le Americhe ma non solo verso le Americhe perché se noi guardiamo adesso a destra vediamo che i comuni maggiormente coinvolti dall'emigrazione sono quelli del Frosinate e dell'area di Latina questo sta a significare un fenomeno particolare che abbiamo nel Lazio rispetto ad altre regioni cioè non esisteva fino all'articolo 131 della Costituzione della Repubblica Italiana la regione come tale quindi da un punto di vista geografico e amministrativo la regione è giovane, molto giovane il che significa che ha avuto al suo interno dei flussi immigratori molto forti dalle aree circostanti che ci sono delle province come Rieti, Viterbo piuttosto che Latina stessa che sono state create che sono state fondate nel novecento quindi non riusciamo oggi non c'è una letteratura particolare che vada a comprendere tutto il fenomeno laziale ma l'emigrazione laziale è data da una serie di flussi interscambi che riguardano le specifiche aree quindi se vogliamo conoscere l'emigrazione laziale dobbiamo necessariamente andare per esempio per provincia perché il frosinate per esempio è quello che ha avuto maggiori flussi perché prendiamolo come esempio perché ovviamente il tempo a disposizione non ci consente di andare su tutte le province però prendiamo il frosinate che è un'area che ha avuto maggiori flussi loro partivano in intere colonie di frosinati partivano principalmente come gelatieri o nell'ambito della edilizia e andavano principalmente in Europa infatti ci sono interi paesi che per esempio in Irlanda a casa Lettico che è in provincia di Frosinone ha avuto tanti gelatai cioè hanno creato una vera e propria economia del gelato economia del gelato in Irlanda così come in Gran Bretagna ci sono stati molti che hanno creato andando proprio in gruppo il commercio di fish and chips tant'è vero che nella ristorazione poi sono andati in crisi quindi questi flussi costanti e che poi richiamavano altri flussi hanno abituato a una sorta di bilocalismo alcune città che si ritrovano automaticamente sia all'estero quindi le comunità sono fortemente interconnesse e negli anni settanta quando il fast food ha sostituito il fish and chips sono andati in crisi e quindi praticamente è terminata quella attività diciamo per cui sono tanti i flussi che possiamo che possiamo andare veramente ad identificare nel Lazio e che sono specifici di ciascuna area andando avanti ecco vediamo così in sintesi che Roma è sempre stato un magnete immigratorio in generale proprio quindi Roma ha una storia separata dalla provincia se vogliamo perché a Roma arrivavano anche arrivava a mano d'opera dalla provincia e vedremo quali lavori perché spesso l'immigrazione a Roma è stata con è stata sempre segnata dalle categorie lavorative che questa rappresentava in più lo stato della chiesa e il regno di Napoli si sono uniti soltanto dopo diciamo c'erano delle aree dell'attuale Lazio che facevano parte dell'allora Campania o dell'Abruzzo quindi per molti secoli ehm il Lazio se vogliamo è aguardato verso tre direzioni che erano Firenze Napoli per il regno di Napoli e Roma quindi erano erano come tre grandi città eh unite poi che si sono unite quando è stata creata la la regione le motivazioni economiche politiche hanno portato l'immigrazione laziale e si sono soprattutto create molte comunità all'estero con quei paesi che eh hanno proprio costituito delle vere e proprie dei veri e propri gruppi commerciali non va avanti non scorre no ecco è andata quindi per fare giusto un esempio eh gli imprenditori e la mano d'opera edilizia arrivavano da Montero Tondo e Fiano o da Amatrice arrivavano i facchini per le grandi famiglie romane qua parliamo di una storia o i vignaioli dei castelli parliamo di una storia che va dalla Roma imperiale che ha visto il ruolo del porto di Ostia piuttosto che del Tevere la ripa romana cioè parliamo di grosse potenzialità legate alla lunga storia e oppure appunto la servitù che arrivava da Marino e Ponzano cioè ci sono eh c'è stato un Roma è stato un crocevia e lo è tuttora e questo va considerato nel turismo delle radici quindi ci sono stati esili liberamente prescelti per esempio la caduta del stato pontificio molte famiglie legate al clero sono andate in Australia quindi vedete come i rivoli della immigrazione sono tanti la immigrazione razziale o le stesse deportazioni di detenuti ehm c'era un sovrappopolamento nell'ottocento eh del carcere di Civita Castellana e sono stati inviati trecento oltre trecento carcerati in Brasile con la chiusura della dei carceri anche in Brasile è stato chiesto asilo all'Australia e dopo l'Australia anche gli Stati Uniti e chi riusciva a fuggire è andato in Europa quindi pensate le varie sto diciamo elencando le varie motivazioni che hanno portato poi i flussi migratori un po' ovunque e poi c'è un caso particolare del caso di Sora che è stato considerato recentemente cioè il Sorano è stato un'area di grande migrazione però c'è un evento a Sora che è particolare perché è stato ripreso recentemente come un caso di sfruttamento minorile in realtà cosa si faceva la povertà era talmente tanta che le famiglie vendevano i propri figli bambini o adolescenti per lo più verso la Francia e questi bambini erano dei saltimbanchi giocavano divertivano le persone per strada quindi anche lì questi bambini saranno diventati adulti ed è una parte del Lazio fuori che vorrà ritornare quindi c'erano anche storie molto tragiche alla base dell'immigrazione gemellaggi tra comunità casa lattico a Dublino abbiamo i nostri gelatai è il monopolio dei fish and chips in Irlanda da parte dei migranti del Frosinate negli anni 50 ora è importante per chi soprattutto per gli operatori turistici è importante non considerare gli emigranti o i discendenti come fossero un'unica massa informe c'è la prima generazione che sono gli italiani che sono emigrati all'estero cosa curiosa e forse Vanessa può confermarmelo che da parte di chi invece ha avuto l'immigrazione la prima generazione è dei nati da chi è emigrato invece noi consideriamo ufficialmente prima generazione chi è emigrato la seconda generazione quindi i figli sono italo-americani italo-tedeschi italo-argentini man mano che ci si allontana da chi è partito c'è ormai le nuove generazioni ormai siamo alla quinta generazione con i bimbi che nascono ora siamo sono americani sono argentini e quindi in quanto tali noi non possiamo pensare che chi arriva sia italiano o sia laziale ha origini ma dobbiamo necessariamente adeguare la nostra offerta al paese di arrivo questo è fondamentale perché alcune volte vedo che il comportamento è sempre un comportamento standard che non funziona perché noi dobbiamo conoscere molto bene cosa c'è dall'altra parte e ben venga il video sull'Argentina che ha le sue tradizioni che ha le sue stesse radici noi pensiamo tante volte di essere molto autoreferenziali noi siamo cittadini del mondo siamo immersi in un in un universo in qualche modo che è collegato e dove le radici ci danno il senso di noi quindi questo è un turismo rigenerativo ed è anche un turismo alla ricerca di sé molto velocemente vi descrivo il routing perché il routing che poi di cui parlo nel libro è fondamentalmente un processo interiore ed esteriore legato all'immaginazione perché perché quando c'è una rottura rispetto a un processo migratorio c'è un'interruzione un'interruzione della propria vita del proprio contatto col paese che si lascia tutto il tempo che resta da quando si va via a quando si ritorna è un periodo in cui si immagina ciò che può essere stato e può essere avvenuto nel paese che si è lasciato e quindi c'è una chiamata ancestrale alle radici nel momento in cui si arriva quello è il momento della verità perché pensate con tutti i racconti dei nonni racconti tramandati in famiglia delle tradizioni arrivando se si trovasse poca qualità se non si trovasse accoglienza quel momento sarebbe traumatico più di qualsiasi altro cattivo servizio che potremmo fornire quello è il momento della rivelazione nel presente quindi l'esperienza va curata in ogni minimo dettaglio per poi portare il ricordo di quell'esperienza che si passa ai parenti si passa agli amici si passa nel proprio paese ed è promozione per il nostro paese quindi il routing è un viaggio delle radici in stile routing cioè in profondità ferma il tempo non è vacanza è pienezza ferma il tempo e ti trasforma e ti rigenera questa è una nuova tendenza anche turistica che ci viene dagli Stati Uniti anche dagli studi che si stanno compiendo abbiamo tre livelli abbiamo il territory cioè praticamente noi siamo visti dall'esterno come nazione quindi abbiamo una italicità di cui ci parlerà il dottor Barbieri che da da preservare da conoscere soprattutto abbiamo il memory routing che è la parte regionale che noi portiamo in noi ovunque e abbiamo la parte del piccolo paese in cui siamo nati cresciuti e che ci condiziona nella vita però queste tre dimensioni quella il fulcro che è il paese di origine la regione quindi noi abbiamo una lazialità c'è una romanità che è diversa dalla napoletanità per esempio ecco questo è quello che è nella nostra identità e se noi trasmettiamo quella identità quella non è clonabile e quindi non abbiamo concorrenti semplice abbiamo un'opportunità molto grande ecco vi faccio vedere un video che è emblematico di tutti i ritorni che abbiamo fatto ecco qui e non abbiamo un'opportunità di tutti d'acqua che è Grazie a tutti. 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 ma non solo, anche la cultura. E con questa premessa passo la parola a Carlo Barbieri, che è socio fondatore dell'associazione Svegliamoci Italici. Carlo, a te il testimone. Grazie, grazie a te, assessore, e anche agli organizzatori per l'invito. Io inizierei a parlare di Italici facendo riferimento al video che è stato proiettato all'inizio di questo incontro, di questa tavola, diciamo tavola o comunque incontro, tavola rotonda, mi pare strano definirla. Inizierei a questo modo. Perché? Perché il video che abbiamo visto è un video divertente, ironico e propositivo, ovviamente, e in questo video, tra le varie statue parlanti, l'ultima è dell'imperatore Traiano, che ci invita ad andare ad Arcinazzo. L'imperatore Traiano è il primo imperatore romano che non è nato a Roma, che non è nato nel Lazio e che non è nato neppure nella penisola italica. Dove è nato l'imperatore Adriano? L'imperatore Adriano è nato nell'Ispagna romana, in una città che attualmente si collocherebbe vicino a Sevilla e in questa città, questa città si chiamava Italica. Ora, anche il figlio adottivo di Adriano, nato a Italica, fu un grandissimo imperatore. Entrambi questi imperatori avevano tra le loro caratteristiche quelle di avere viaggiato molto, viaggiato per motivi militari prevalentemente Traiano, viaggiato per motivi culturali prevalentemente Adriano e ne è testimonianza Villa Adriana a Tivoli. Ora, questi due imperatori sono degli italici, ma non tanto perché sono nati a Italica. Infatti, per essere italici non occorre essere imperatori romani, per essere italici non occorre essere nati in Ispagna romana e per essere italici non occorre essere, come vedremo, italiani. Ora, io adesso volevo vedere la presentazione. Ecco, questo era il riferimento al video. Io non sapevo che sarebbe stato fatto proiettare, quindi come dicevo non occorre essere né imperatori né nati in Ispagna e né per forza italiani. Quindi, chi sono gli italici e perché questi italici possono avere un ruolo in questo nuovo tipo di turismo, come ha detto anche l'assessore all'inizio, che è il turismo delle radici. Prima però, consentitemi di parlare un attimo di Piero Bassetti, perché Piero Bassetti è stato l'ideatore di questo pensiero e il promuovitore di questo movimento. Una persona che ha scritto un libro nel 2005 che appunto si chiama Svegliamoci Italici e che promuove che cosa? Promuove un altro modo di vedere i modelli geopolitici e geoeconomici del mondo, andando oltre al concetto di nazione, di stato, di confine e proponendo delle comunità che dialogano tra di loro e che si caratterizzano dalla comunanza di valori condivisi. Ora, questa forma di pensiero poi ha portato alla creazione e alla costituzione di un'associazione che guarda se a caso si chiama Svegliamoci Italici e anche alla costruzione di una rete di contatti con le varie comunità di italici nel mondo che si chiama Italica Community. Per motivi di tempo ovviamente non andrò qui a descrivere i compiti, le funzioni di queste associazioni, di questi progetti, così come non posso e non intendo di lungarmi oltre sul libro di Bassetti. Sono chiaramente a disposizione per ulteriori spiegazioni, magari dopo questa tavola rotonda o comunque vi invito a visitare i siti di queste due associazioni e di queste due iniziative. Quello che a me sembra importante è che diciamo cercare di intanto capire chi sono questi italici. Chi sono questi italici? Bene, gli italici sono, in primo luogo, sembra banale dirlo, sono gli italiani, coloro che hanno passaporto italiano e che risiedono o in Italia o all'estero. Si potrebbe finire qui, ma allora a quel punto tra italiani e italici non ci sarebbe differenza. Gli italici sono qualcosa di diverso, sono qualcosa di in più. Sono intanto coloro che tipo i ticinesi, i dalmati, i sanmarinesi che rientrano in questo mondo più ampio degli italici. Sono anche quello che è stato definito appunto da Letizia Sinesi, sono gli oriundi di varie generazioni che diciamo hanno un legame di sangue con l'Italia. E poi, e questa è la grande novità, sono anche gli itagliofoni o gli itagliofili, cioè vale a dire coloro che o perché parlano anche italiano e conoscono bene la nostra cultura, diciamo in senso tradizionale, oppure che comunque, pur non parlando italiano, sono attratti dalla nostra cultura, sono attratti dal nostro modo di vivere, del nostro modo di pensare, dal nostro essere e di essere. Tutte cose che noi, in quanto italiani, spesso non riusciamo a comprendere, a vedere o a valorizzare appieno. Per noi il termine bellezza, per noi il termine diversità, è un qualcosa di quasi ovvio, di quasi naturale. Per altri popoli questo è un qualcosa di incredibilmente ricco e questo aspetto qua attrae e questo aspetto qua fa sì che altri popoli, altre civiltà, vengono attratte da questi fenomeni. Quindi tutte queste categorie, la somma di tutte queste categorie, fa un universo di almeno 250 milioni di persone. Ricordate che Letizia aveva detto prima che c'erano a livello di oriundi, di varie generazioni, eccetera, quasi forse 80 milioni, ai quali bisognerebbe aggiungere i 60 degli italiani. Bene, a questi bisogna aggiungere ancora, ecco perché il numero di 250 probabilmente è anche sottostimato, un numero incredibile di persone che sono vicine alla nostra cultura, non all'Italia in quanto nazione, all'Italia in quanto cultura. Ora, adesso, cosa io non vedo bene? Ecco, sono quindi, abbiamo detto, che sono un insieme di persone che, pur essendo diverse, perché? Perché provengono da paesi diversi, hanno lingue diverse, sentono in modo simile. Cioè, sentire, che è il tema anche del sentimento, è un'altra delle tipicità dei valori della cultura italica. L'italicità. L'italicità è un qualche cosa di diverso della italianità. L'italicità è una forma di cittadinanza e di appartenenza che va oltre il tema della nazionalità. va oltre. Cioè, si aggiunge, non elimina la nazionalità. Noi possiamo essere italiani, riconoscerci nella bandiera italiana, nei valori italiani, nella patria. Non è un problema questo. Il tema è che noi siamo anche, ad esempio, europei e dell'Unione Europea. Allora, questa pluridentità, mentre è più o meno capita, interiorizzata qui in Europa, nell'ambito dell'Unione Europea, dobbiamo immaginarla a livello mondiale una forma analoga vista, invece, per quanto riguarda l'italianità. Una serie di persone che si sentono vicine da questo punto di vista. E questo è un valore chiaramente incredibile e importante. Quindi, il termine, per quanto riguarda noi dell'Associazione Svegliamoci Italici, il termine radici non è, per noi, per la nostra interpretazione, non è soltanto quello della memoria. Pur importantissimo. Una memoria importante perché è il tema del turismo di ritorno, il tema del routing, il tema... Questi temi qui sono, a nostro avviso, molto importanti e quindi vanno valorizzati, come è stato appena illustrato dalla dottoressa Sinisi. Ma a questo noi vogliamo aggiungere un altro elemento, e cioè che le radici, per noi italici, sono anche un discorso di appartenenza a una cultura comune. E quindi è un discorso che va oltre il tema della memoria. È un discorso di costruzione insieme per un dialogo futuro unificante tra paesi diversi. Questo ci porta a evidenziare come, appunto, questo mondo degli italici offre una opportunità incredibile, sia in termini di domanda turistica, sia in termini di offerta turistica, e non solo per il fatto che stiamo parlando di un mondo che non è soltanto, fermo restando che è importante, quello degli oriundi e degli ex immigrati o degli discendenti degli immigrati, ma va ben oltre. Quindi, che cosa riteniamo sia necessario fare? Come è stato anche appena detto dall'assessore Corrado, è che occorre puntare su un tema molto importante, che è quello della qualità, e cioè di proporre non solo cose nuove per un interlocutore nuovo, che è questo degli italici, ma proporlo in maniera diversa. Quindi, fare delle proposte turistiche, ma in modo diverso, molto più elaborato, molto più sofisticato, puntando anche, appunto, sul tema della qualità. E questo che cosa significa? Significa che, al di là degli investimenti materiali che dovranno essere effettuati, e non solo, ovviamente, per il mondo degli italici, ma in generale per il settore del turismo, peraltro, gli italici, anche per quanto riguarda il settore materiale, gli investimenti materiali potrebbero svolgere un ruolo importante, in quanto potrebbero apportare capitali per il miglioramento e investimenti diretti, ma questo è un altro discorso. Quello che a me sembrava interessante qui evidenziare è il tema, invece, degli investimenti immateriali. Investimenti immateriali, da un lato, per migliorare la capacità di ascolto, la capacità di capire che cosa questo mondo italico necessita. Si aspetta, si attende nel andare a visitare certi luoghi e fare questi incontri che, appunto, anche Letizia accennava. Quindi aumentare la capacità di ascolto. Dall'altra parte, dare delle risposte, perché non basta ascoltare, occorre poi anche dare delle risposte. Ecco, questi due aspetti portano a cercare di costruire un modello. Cercare di costruire un modello che si basi, da un lato, sul miglioramento del dialogo e della conoscenza reciproca, ma nello stesso tempo nella capacità di realizzare quello che abbiamo ideato e pensato. La capacità di realizzare, io ho utilizzato in questa slide un termine che in italiano a me personalmente non piace molto, come termine linguistico, e cioè implementare. Ma implementare l'ho utilizzato apposta perché, in qualche maniera, per farvi comprendere anche la filosofia, lo spirito del tema italico, cioè implementare è ormai diventato un termine italiano, ma è evidentemente derivato dalla lingua inglese. esattamente questo è il tema dell'ibridazione degli italici, cioè cercare di coniugare il sentimento, la bellezza, l'idea, la creatività, con la capacità di realizzare. La prima, le prime caratteristiche sono molto più italiane, le seconde a volte sono un po' più anglosassone. Andando oltre, andando avanti, il tema del modello turistico. Ecco, il modello turistico, come ho detto, occorre a nostro avviso puntare molto sul tema della comunicazione, sulla capacità di ascolto, sulla capacità di proporre e di realizzare. Un aspetto volevo evidenziare. come italici e come modello volto a valorizzare la grande comunità degli italici, noi riteniamo che occorra, proprio per il fatto che queste comunità sono sparse in tutto il mondo, valorizzare al massimo lo strumento informatico, le tecnologie. Ma queste tecnologie vanno applicate in modo che comunque conservino in qualche maniera anche un elemento di umanità. E quindi questo è un altro delle impegni che dovrà affrontare il turismo, a nostro avviso, delle radici della cultura, cioè utilizzare gli strumenti moderni, ma conservando anche tradizioni e sentimento. Umanizzare la tecnologia è una bella sfida. Quindi cosa si richiede? Da un lato, come associazione Svegliamoci Italici, noi stiamo puntando al tema della formazione. Insieme a Scuola Italica, che abbiamo creato anni fa e che ora stiamo rilanciando, stiamo strutturando una serie di corsi destinati a italiani e a non italiani, a soggetti pubblici e soggetti privati, per insieme andare avanti nella forma di educazione per poter ascoltare da una parte e realizzare. Per poter realizzare, l'altro obiettivo è quello della progettazione. e nella progettazione abbiamo anche come partner nel viaggio e nell'esperienza la società di Letizia Sinisi, che ha appena descritto alcune delle iniziative che si faranno a breve, alcune di queste guarda caso proprio anche con l'associazione Svegliamoci Italici. La terza gamba, il terzo obiettivo è quello di mettere in rete le varie comunità del mondo, di nuovo cercando di sfruttare la tecnologia e nello stesso tempo però mantenere questi rapporti. questa rete che si chiama Italica Global Community già esiste, è in contatto con alcune comunità importanti come Italicos do Brasil, come guarda caso, e quindi mi ricollego al primo intervento di questa tavola rotonda, con l'Argentina, come poteva mancare l'Argentina, e l'Argentina è importante per un aspetto e che hanno compreso in Argentina immediatamente l'importanza non solo della memoria ma anche della cultura e della formazione, tant'è che l'Università del Mar del Plata ha la prima cattedra al mondo di italianicità, non di italianità, di italianicità. E poi abbiamo una serie di altri contatti che si stanno costruendo con una serie di altre comunità. A questo punto arriviamo alla fine dell'intervento e chiedo scusa per la lunghezza. Da un lato noi riteniamo come italici che si può utilizzare maggiormente l'apporto che gli italici delle varie comunità italiche all'estero. Comunità che per comunità distinguiamo in due categorie. La prima è quella degli italiani che sono andati all'estero ma non che stanno fuori Italia ma non quelli delle passate generazioni, quelli che sono andati in questi ultimi anni, quelli che vengono definiti i famosi fuga di cervelli e che invece a noi piace di più definire cervelli in circolazione. cervelli che sono curiosi, che vanno fuori e che possono ritornare, che anche ritornano. Ci sono anche questi cervelli che hanno lasciato certe regioni, ce l'ha appena accennato l'assessore prima, che hanno lasciato e sono andate in altre, ma non è che hanno abbandonato quelle originarie. Ecco, questi cervelli, queste persone hanno un ruolo importantissimo nei paesi dove risiedono e possono dare un contributo incredibile anche nell'ambito del turismo delle radici. Questo è un perché? Perché anche hanno aumentato in maniera considerevole la reputazione dell'Italia nel mondo. L'altro è invece, e qui lo vedete, sono tutta una serie di italici, cioè di non italiani, che pur vivendo all'estero conoscono l'Italia benissimo e sono amanti dell'Italia e che possono in qualche maniera venire, diciamo, dare un apporto ulteriore in questo movimento, con questi obiettivi. Qui c'è la fotografia di Franz Timmermans, che è il vicepresidente della Commissione Europea, è un olandese, è una persona che ha vissuto vari anni a Roma per un motivo semplicissimo, che il padre era diplomatico, se non vado errato era l'ambasciatore olandese qui a Roma, ha vissuto a Roma ed è tanto romano che è diventato anche romanista, convinto romanista, e quindi, come vedete, speriamo che porti bene anche per la finale fra qualche settimana. Detto questo, l'altra faccia degli italici sono gli italici che invece vivono in Italia. E chi sono questi italici che vivono in Italia? Gli italici che vivono in Italia, piuttosto che a Roma o nel Lazio, sono in primo luogo sono quelli, sono gli italiani, gli italiani che hanno una cultura internazionale, che per lavoro, per formazione, eccetera, possono essere anche dei giovani che hanno partecipato ai vari progetti Erasmus che sono pronti a vedere questo discorso che va oltre le frontiere. E questi sono dei grandi protagonisti per il movimento degli italici. Gli altri sono invece gli italici, vale a dire, i non italiani residenti in Italia, nel caso specifico residenti magari a Roma o nel Lazio, che sono, per esempio, che lavorano o che studiano presso istituti di cultura, le accademie, le fondazioni, le rappresentanze diplomatiche che ruotano intorno alla Chiesa Cattolica, visto che ci dimentichiamo spesso che Roma è la capitale del mondo cattolico, piuttosto che in certi settori dove Lazio e Roma hanno un ruolo importante, il cinema, la moda, le telecomunicazioni, lo spazio. Ecco, questi sono personaggi, sono persone non italiane, italiche, che possono dare anche loro un contributo. Tra questi, io faccio l'esempio, ad esempio, di Heinz Beck, che tutti conoscono come un grande cuoco di cucina italiana, guarda caso, è tedesco, e un'altra cosa che volevo solo ricordare a noi, soprattutto, che viviamo a Roma, che fare una passeggiata a Valle Giulia significa fare una passeggiata nella cultura mondiale per tutte le accademie che ci stanno lì. Ora, tutti questi italici sono tutti in grado di dare concretezza alla capacità di attrazione del nostro paese, che poi, che cos'è? È la concretizzazione del famoso soft power, che sempre viene definito e sempre viene pronunciato, viene detto, ma mai si capisce bene di cosa si sta parlando. Si sta parlando di queste cose qua. E allora, forse non è un caso che all'inizio di quest'anno, al Ministero degli Affari Estri e della Cooperazione Internazionale, è stata creata un'apposita direzione generale per la diplomazia pubblica e culturale che deve promuovere proprio il tema del soft power italiano e che credo possa giocare un ruolo importante anche nello sviluppo del turismo delle radici della cultura. E non a caso anche, sempre il Ministero degli Esteri e della Cooperazione Internazionale ha avviato, come tutti voi sapete, un progetto sul turismo delle radici che è un progetto che è partito sul tema delle radici della memoria e che noi italici auspichiamo sia anche rivolto verso le radici della cultura. Tutte queste cose che ho detto sforando ampiamente i 10 minuti che il tempo a disposizione ha conferma che forse sono più italiano che italico perché la sintesi non è proprio una mia caratteristica per dire un'ultima cosa che gli italici possono svolgere un ruolo molto importante in due fenomeni che coinvolgeranno l'Italia la Regione Lazio e Roma e in modo particolare da un lato il giubileo del 2025 e anche la candidatura di Roma all'Expo per il 2030 io vi ringrazio e vi invito a visitare i nostri i nostri siti e a diventare al più il più presto possibile italici anche perché credo che lo siate già grazie grazie Carlo perché veramente ci hai illustrato un tema anche che richiede tempo no? anche per farlo metabolizzare però ce l'hai illustrato con una chiarezza inaudita il significato del turismo delle radici che abbraccia non soltanto la memoria perché l'associazione più immediata che viene a chi sente l'espressione turismo delle radici ma anche l'intera cultura quindi appartenenza alla cultura comune e se dovessi sintetizzare diciamo un po' il cuore anche del tuo intervento turismo delle radici significa anche ascolto dialogo personalizzazione dell'esperienza di un'esperienza italica e non italiana che sono distinte diverse e un focus però un accenno che c'è stato un po' negli interventi di tutti i relatori ha fatto anche riflettere sì sulla necessità di accompagnare i viaggiatori alla riscoperta dei luoghi di provenienza di fargli trovare un'adeguata accoglienza e di fargli vivere esperienze personalizzate ma c'è un fil rouge che lega il turismo delle radici con l'industria del turismo e l'economia dei territori e ce lo spiegherà Claudia Bettiol che è fondatrice del portale discoverplaces.it in due lingue ed attrice del premio Town Ambassador dedicato a chi opera per la promozione e lo sviluppo del proprio borgo di origine ecco con Claudia diciamo ragioneremo su l'influenza e il legame che c'è tra il turismo delle radici e la riqualificazione anche la promozione ma anche la riqualificazione dei dei nostri dei nostri borghi e sicuramente diciamo dall'intervento di Claudia capiremo meglio anche perché il turismo delle radici è una delle missioni del PNRR tra l'altro come accennava prima Carlo è al centro della programmazione del MAICI quindi è stato inserito nel PNRR e come regione Lazio noi siamo attivi e dialoghiamo con il MAICI proprio perché è un'opportunità che noi vogliamo utilizzare tutta rispetto alla programmazione del PNRR Claudia negli anni avete tu sei stata l'idiatrice di questo premio Town Ambassador sono stati premiati diversi italiani residenti all'estero e diciamo non soltanto dal desiderio di mantenere i legami con il nostro paese ma anche dalla necessità dalla voglia poi questo legame spinge spesso questi italiani all'estero chi ha radici italiani a investire sul territorio come descrivici anche quelle che sono esperienze diciamo pratiche buone pratiche che sono si sono verificate sul nostro territorio e capiamo il perché diciamo che il turismo delle radici può essere un'importante leva economico di sviluppo del territorio anche per colmare divari che spesso e soprattutto vivono i borghi e le aree interne del nostro territorio ti passo il testimone e ti ascolto con interesse grazie grazie assessore e anche di essere moderatrice perché ascoltandoci tutti ascoltando le nostre esperienze speriamo di fare un dono di capitalizzare tutto quello che in questi anni abbiamo compreso vissuto in prima persona tutto è nato perché ho sempre avuto partner australiani canadesi quindi ho sempre vissuto in un ambiente bilingue e mi è venuto naturale quello di raccontare in due lingue i territori e mi ero accorta che ero letta da giovani da Canada e Stati Uniti quindi molto mi ha sorpreso questo dato perché raccontando piccoli paesi avere questo tipo di pubblico per me era fuori dagli schemi allora abbiamo cominciato negli anni a frequentare anche un po' le feste delle migranti ad andare a vedere chi erano queste comunità e come si relazionavano e quando siamo andati nei piccoli paesini ci siamo accorti che intanto erano modelli superati quelli della festa dell'immigrante e che poi c'erano dei ponti che venivano costruiti da chi era emigrato cioè venivano si sforzavano anche loro di riintegrarsi in quello che era la società attuale italiana mentre noi italiani non eravamo più capaci di accoglierli cioè mi sono trovata in dei paesini in cui c'erano americani canadesi persone che parlavano inglese come lingua principale che cercavano di comunicare con gli italiani e gli italiani che erano quasi indifferenti adesso dico una cosa che è un po' triste però come se noi avessimo dato per scontato per anni che delle famiglie che erano emigrate spendevano migliaia e migliaia di dollari per venire in Italia a prendere un aereo stare più giorni costringere i figli invece che andare alle Maldive o in altri paesi a venire in paesini piccolissimi di tutto quello che è non solo il Lazio immaginiamo questo fenomeno ovunque e noi non abbiamo capito il grande bagaglio d'amore che loro avevano quindi in un certo senso il premio è nato per dopo aver parlato con tantissimi questi come li ringraziamo come li omaggiamo di tutto questo amore che hanno dato amore che si è espresso sia nei viaggi e sappiamo quanto durante i mesi estivi i paesini soprattutto del basso razzo si riempiono di persone che vengono da altri paesi ma anche persone che hanno investito in costruzione di scuole hanno investito in finanziare sagre paesane hanno investito in costruire eventi culturali quindi hanno proprio investito tempo e denaro e passione hanno investito anche in creare gruppi social sui su facebook in cui ritrovavano tutti i discendenti di un certo paese quindi qui nasce il premio a town ambassador che diamo insieme ai sindaci alle persone che hanno mantenuto un forte legame d'amore ma anche di investimento al volta e l'anno scorso abbiamo avuto anche il patrocino del ministero degli esteri e dell'ENIT poi sono nate anche amicizie perché dare questo premio significa creare anche un riconoscimento perché molto importante il premio viene dato con un adesino di una delibera di giunta quindi il nome resta poi agli atti quindi è qualcosa che diciamo gratifica la persona lo diamo insieme al sindaco però è anche il modo di avviare un percorso quindi con alcune di queste persone abbiamo cominciato a avviare un percorso facciamo un incontro annuale dell'università e nell'ultimo incontro che abbiamo avuto con l'università di Cassino che è molto radicata nel territorio è emerso come il desiderio soprattutto le prime generazioni quella che Letizia ha fatto vedere molto bene prima questi tre livelli il livello degli emigrati il livello degli italo italo qualcosa altro e poi dei discendenti italiani c'è un desiderio di continuare a mantenere rapporti con l'Italia da parte della prima generazione nei confronti delle altre e l'unico modo per stabilire nuovi legami che non possono più essere quelli affettivi perché si sono persi quelli affettivi negli anni è quello di creare piccole attività imprenditoriali nella recettività nelle aziende agricole in modo che ci sia una necessità di dover tornare in Italia per mantenere attivi queste attività e questo è un patrimonio incredibile perché stiamo parlando di comuni molto piccoli stiamo parlando di comuni più disagiati cioè spesso sotto i mille abitanti molto piccoli sotto i mille abitanti e poi avremo chi lo racconta anche me avremo un'esperienza diretta raccontata sì due esperienze dirette raccontate e poi con queste persone con cui abbiamo stabilito perché poi i legami sono anche legami chimici quindi con questi con cui abbiamo stabilito più rapporti abbiamo deciso di provare a andare oltre e quando il Ministero della Cultura ha fatto il PNRR sulla rinascita dei borghi abbiamo preso come caso quello di sette frati e abbiamo lavorato insieme alle comunità in Canada alle comunità in America alle comunità italo-scozzesi perché poi Cesidio è scozzese non soltanto di quel borgo ma di quelli vicini coinvolgendo quelli vicini perché poi i confini che noi riteniamo amministrativi per gli altri non è che sono così forti e abbiamo costituito un progetto che vede coinvolti i giovani discendenti canadesi i giovani discendenti americani e i giovani locali perché noi dobbiamo creare nuove radici per i giovani altrimenti finirà tutto naturalmente con quel grafico che Letizia ha fatto vedere con la naturale prosecuzione della vita invece noi non dobbiamo disperdere questo bagaglio che è un bagaglio d'amore e è molto bello assessore in spagnolo viene chiamato il turismo della nostalgia che più del turismo delle radici che sembra un po' forte la nostalgia è un sentimento quindi dà l'idea di come le persone vengono qui per un sentimento che loro provano nei confronti del nostro paese e devo dire in questa esperienza poi magari parleremo del Borgo di Sette Frati possono leggerlo su un portale possono leggere tante cose parleremo della Madonna del Canneto il sindacolo è un forte uno streno promotore tra l'altro però una cosa che devo dire un'attenzione che mi è arrivata tantissimo perché lavorare con fusi orari diversi con generazioni diverse con culture diverse è stato un challenge una sfida molto grande abbiamo lavorato due mesi intensi e devo dire che siamo stati anche molto guidati dai tecnici del PNR che hanno preso Sette Frati come una scommessa per creare un modello nazionale quindi diciamo facciamo tutti i lobby per avere questo progetto finché questo progetto possa diventare possa essere approvato diventare un modello la vera sfida è stata quella che dal Canada ci hanno detto noi abbiamo impiegato molto tempo a recuperare giovani attorno ai club perché un altro problema che hanno all'estero è che sono superati tanti modelli che si usavano al passato quello dei club dei paesi quello della rappresentatività italiana dei comitest sono tutti modelli che sono ormai obsoleti nelle ultime elezioni di comitest è andata a votare il 4% degli italiani all'estero quindi un dato assolutamente che ha spiazzato quindi dal Canada Tony Malizzi ha detto io ho fatto tanta fatica per recuperare giovani attorno a un progetto di di recupero di legami o di creazione di nuovi legami con l'Italia io non dovete stare attenti a non disperdere questo patrimonio non accogliendoli nel giusto modo cioè questi ragazzi quello che è emerso da quello che diceva Letizia questi ragazzi vengono con un sogno un sogno che gli abbiamo trasmesso siamo riusciti a raggrupparli non dobbiamo essere sicuri che voi li accogliete nel giusto modo dobbiamo essere sicuri che questo loro sogno non lo distruggete perché se distruggete il sogno di un ragazzo ristruggete il sogno di intere comunità quindi diciamo abbiamo dovuto impiegare del tempo sia per elaborare un progetto che tenesse conto di questo sia per rassicurare queste comunità all'estero che noi davamo il giusto rispetto al loro amore al loro impegno e che li avremmo accolti nel giusto modo io penso di aver sintetizzato assolutamente la la centralità del turismo delle radici per l'economia quanto può fare la differenza sull'economia di un territorio infatti una cosa che ci hanno detto è stato quello di perché il progetto prevede di dare borse di studio a dei giovani che vengono da Canada e Stati Uniti per stare nel territorio girare tutta la Val Comino non soltanto Sette Frati raccontandolo quindi è un grande progetto di racconto del territorio di economia ma anche di promozione di promozione che coinvolge i giovani locali e abbiamo coinvolto tantissimi giovani imprenditori locali il presidente del consorzio del Cabernet di Atina una agricoltura una non so come si dice casearia che alleva pecore e crea il formaggio con il pecorino di Piscinisco Dob abbiamo coinvolto imprenditori che hanno già investito in Italia come tutor però tantissimi ragazzi perché era un progetto che doveva deve creare ponti nuovi nei giovani deve creare ponti nuovi e deve spingere permettimi di aggiungere anche i giovani che abbiamo qui a rimanere qui se penso all'era interna ai piccoli borghi uno dei temi di attualità molto presente in tutte le istituzioni è lo spopolamento dei borghi spesso ci si chiede come facciamo a tenere i nostri giovani qui ecco io vedo questo il turismo delle radici creare ponti tra i giovani diciamo in questo caso si parlava di Toronto dei canadesi e i nostri e spingere anche a investire a farli venire la vedo anche come una misura efficace di contrasto allo spopolamento noi abbiamo preso come modello quello dei comportamenti nuovi che sono quelli di giovani nomadi digitali quindi abbiamo detto prendiamo facciamoli stare qualche mese quindi facciamoli diventare un po' più di turisti facciamoli diventare cittadini temporanei anche perché ormai la fibra è arrivata anche in Valcomino quindi è possibile essere dei nomadi digitali in uno dei territori più belli del Lazio permettete assessore di fare un po' di pubblicità alla Valcomino e questi quindi di andare un po' oltre quello che è il turismo cittadini temporanei nomadi digitali che devono cercare opportunità di business per tornare a vivere in un territorio se noi saremo capaci di affascinarli condivido pienamente siamo in chiusura e vediamo ah Claudia aveva un video no perdonami possiamo mandare il video anche mentre parla Toni perché riguarda il video del progetto che abbiamo fatto tutti insieme sulla rigenerazione di Sette Frati perfetto allora io farei un passaggio diciamo in chiusura perché adesso vedremo in maniera concreta due eh esperienze di coinvolgimento dei giovani eh diciamo dei giovani eh discendenti di italiani giovani eh in di altri paesi ma vedremo anche concretamente eh il ruolo che hanno le le attività che sono nate grazie anche agli investimenti eh di persone che hanno voluto investire sul territorio laziale il ruolo di queste attività che sono anche esperienze parlo dell'albergo diffuso sotto le stelle e della cantina Iciacchi Iciacca che permettono a Piccinisco sì io se lo chiedo qui credo che poche persone alzino la mano se chiedo Piccinisco chi lo conosce e ecco poche infatti chi lo conosce e chissà dove è collocato però le eh gli investimenti la le attività imprenditoriali esperienziali mi viene da dire perché da un lato abbiamo l'enogastronomia è una ricettività molto esperienziale hanno aiutato Piccinisco eh nella valle di Comino a essere nota lasciando la parola a Cesidio di Ciacca eh ti chiedo che ci fa uno scozzese a Piccinisco? Buona domanda chiedi anche la mia moglie ogni ogni giorno comunque papà era nato a Piccinisco nonna era nato a Londra e riportato a Piccinisco quando era piccola nonno era nato a Piccinisco io ero nato in Scozia ho vissuto in Scozia sono tornato qua in vacanza ogni volta comunque la domanda anche a me perché l'ho fatto? Ho fatto semplicemente perché per l'albergo di Fuso abbiamo la necessità necessità di avere un alloggio un appartamento quindi iniziato con questo pensiero in più per per vivere in Scozia con con il nome Cesidio non è molto facile non è molto facile a pronunciare ma più di quello ero sempre un italiano sempre un straniero quindi nel mio paese ero un straniero tutti i miei fratelli sorelle cugine hanno un nome inglese John Michael Peter Paul Cesidio quindi per conoscere queste persone conoscere questo paese conoscere questo territorio era necessario di ritrovarlo di venire qua la circostanza della nostra vita ha fatto più semplice questo quando ho iniziato la mia esperienza come un avvocato imprenditore consigliere consulente per qualche società importante in qualche campi diversi specialmente nel mondo di sviluppo economico delle città ho cominciato a pensare che devo fare cioè perché i miei cugini o amici non vengono a Pigenisco o nel loro paese generalmente perché non c'erano all'oggi adatto alla loro aspettativa o forse non è adatto all'aspettativa della loro famiglia che hanno vissuto in un altro modo quindi è necessario di fare un albergo diffuso di un certo livello un buon livello perché se le persone vanno in America a New York a Londra a Parigi a Malfi tanti tanti parti importanti nel mondo e vengono qua per trovare rudere che serve perché non non tornano sempre forse vengono una volta e poi non ritornano quindi abbiamo fatto questo albergo diffuso e abbiamo deciso di promuovere come casa da casa home from home quindi con un piccolo cucina doccia ampio pulizia straordinario eccetera eccetera era più facile a Pigenisco perché Pigenisco è un po' diverso di altri paesi forse forse no è diverso perché c'è una piazza che è proprio il salotto del paese esce tutte le persone per condividere la loro vita e per introdurre i loro amici i loro parenti all'altri quindi abbiamo questo senso di un salotto e vengono persone di tutto il mondo la settimana scorsa c'erano persone di Scozia di Inglaterra di Parigi di Belgio di Astridam di Praga di America di Canada di Venezuela e di Islanda perché? perché qualche era parenti oppure amici di parenti e adesso qualche sono visitatori che sono venuti a noi basta quello permettemi a dire che per mettere tutti di questi numeri grossi in contesto che Scozia secondo il consolato nel 60 il consolato italiano in 60 65 ha detto 60 65% dell'italo-scozzese hanno origini di Pijinisco che è una popolazione di 1.200 persone 1.200 due anni fa il governo di Scozia ha detto che ci sono 100 mille persone in Scozia che sono discendenti di italiani quindi secondo questi due fatti ci sono più di 65 mille persone in Scozia sono in Scozia discendenti di Pijiniscani da mille persone come è possibile ma è possibile e questo è il fatto è vero per tutto il mondo per tutti i paesi quindi abbiamo questi legami forti abbiamo queste salotto abbiamo l'esperienza di tornare a casa anche per quelli che hanno emigrato 120 150 anni fa e poi c'è qualcos'altro strano Pijiniscani come un paese con una popolazione di 1200 si può trovare sull'Amazon verso 8 9 forse 10 11 libri scritti in inglese che parla della storia la tradizione la cultura e la cucina perché perché fuori c'è questa passione questi interessi nel paese sono persone che non sono venute spesso ma hanno studiato hanno sentito loro parenti loro nonni uno un'avvocatessa a New York prima mai ha visitato Pijiniscan lei ha scritto un libro si chiama Pijiniscan questo interesse che è una forza una risorsa straordinario che qua in Italia dobbiamo utilizzare non per approfittare ma per anche per concimare i nostri radici perché i nostri noi siamo i radici queste radici serve i pianti loro sono i pianti dobbiamo alimentare quelle pianti quindi i concimi necessari e come possiamo concimare queste persone l'accoglienza certamente le strutture certamente la gastronomia certamente ma in più queste persone che vengono terza quarto cinque sesto generazione hanno la voglia di saperci di conoscerci di conoscere la storia di sapere il motivo per uscire per andare che non è quello scritto nella storia non è quello portato dai parenti di nonni di genitori oppure dalla comunità che tante volte non è preciso è distorta esatto quindi è essenziale di sapere di studiare la storia di studiare la cultura la tradizione e mettere in una forma che fa accessibile a queste persone quindi il turismo di radice è un turismo che non deve esistere solo per prendere delle persone Ma dobbiamo far mangiare le persone che vengono. È un scambio. Nutrirle. Esatto. Al stesso tempo, l'esperienza qua a Bicinisco è importante perché uno porta l'altro, come sempre, come i nostri descendenti che sono andati all'estero hanno portato i loro amici e i loro parenti. E fanno anche il diverso. Quelli che vengono portano anche i loro amici perché trovano una passione, un interesse, un'accoglienza che non ha aspettato. Un'esperienza che diventano ambasciatori per noi. Per concludere, perché io ho la capacità di parlare per troppi tempi. Quelli che vengono, che torna a casa, devono tornare più ricche, forse solo della storia, della cultura, di un libro, di un assaggio, di un nostalgia che hanno presso. Ma forse possono convincere quelli che stanno lì, in tutto il mondo, più ricchi che possibile. E non dimenticare, solo in Val di Comino abbiamo cresciuto, Charles Forte, Alberghieri, Anita Roddick, the body shop, Eduardo Palozzi, il scultore in bronzo per la regina, Sir Richard De Marco, artiste. Frances Rossi, status quo, Lady Gaga, a Pro Costello. Tanti, tanti persone. Ma c'è una ricchezza straordinaria, non solo in arte, ma anche in industria, anche in fish and chips, in gelateria, eccetera, eccetera. Questo può essere qualcosa che permette a questo territorio, Val di Comino, Pigenisco, ma tutta l'Italia, di continuare ad esistere. Perché se queste persone non tornano e non trovano l'opportunità, l'accoglienza, le strutture e tutte le cose che ha parlato, non spendono. E se non spendono, i nostri figli devono uscire. E quando chiude il bar, finalmente, nel paese, anche la chiesa, chiude il paese. Quindi per tenere il bar, anche la chiesa, dobbiamo tenere i nostri figli. Il governo ha tante responsabilità per questo. E non sanno come farlo. Ma non è semplice di, semplicemente di promuovere questi eventi, assessore. Dobbiamo trovare un modo per semplificare la burocrazia, per accogliere quelli che vuole investire qua, e fa più facile la sistema di amministrazione per permettermi di investire. E permettere ai miei amici di investire. Tanto conosco abbastanza persone che sono venuti qua, approvati, e poi hanno deciso di andare di nuovo. Questa è una vergogna. E questa è la cosa che dobbiamo affermare. Grazie a tutti. Grazie Cesidio per averci veramente rappresentato come non conta e non serve soltanto una cultura dell'accoglienza, far vivere l'esperienza personalizzata, ma come il turismo delle radici, il turista delle radici, ha bisogno anche di arricchimento, di sentimento. E condivido sulla necessità della semplificazione, e te lo dico anche in qualità di assessore, che ha la delega alla semplificazione. e anche in Regione Lazio stiamo lavorando, e presto vedrà la luce, un provvedimento che semplificherà procedimenti alleggerendo quelle che sono le procedure più critiche e complesse, che purtroppo aumentano i tempi di risposta delle istituzioni nei confronti delle imprese e dei cittadini. Quindi colgo con favore anche questo aspetto. E chiudiamo questo lungo panel. Perdonatemi, forse oggi sono stata anche un pessimo moderatore per i tempi, perché non vi ho voluto interrompere. Veramente vi ho ascoltato con interesse e curiosità, e avete arricchito realmente questo tema. e chiudiamo in bellezza con una, con la rappresentazione poi di quello che dicevamo prima, il coinvolgimento dei giovani discendenti italiani in Canada, e l'attuazione di una progettualità in uno dei nostri borghi più belli che Sette Frati. Un borgo, per chi non lo conosce, che fa parte della provincia di Frosinone, che ha poco più di 700 abitanti, e Tony Malizia ci racconta che cos'è la Carneto Society di Toronto, e come a Toronto conoscono la Madonna di Carneto, nota a Sette Frati, perché Tony è il presidente e cofondatore della Carneto Society di Toronto. Tony è in collegamento con noi, grazie Tony per essere presente con noi, anche se in modalità virtuale. Abbiamo primo accennato alla progettualità di Sette Frati, lascio volentieri a te la parola per rappresentarci in maniera plastica anche come è nato questo progetto e come avete coinvolto i giovani discendenti italiani in Canada per creare ponti con il nostro territorio. Grazie Assessore Corrado, e buon pomeriggio a tutti. Essendo l'ultimo, sono più fortunato degli altri, perché può darsi che mi ha avuto l'opportunità di ascoltare i commenti di tutti i collaboratori. Molti di questi casi io condivido totalmente. Comunque io ho vissuto e vivo la vita in primo piano di un emigrante che ultimamente cerca di riconquistare l'animo dei giovani italo-canadesi. Io sono nato a Sette Frati, in provincia di Frosinone, e migraio in Canada negli anni 65. Quando in Italia, anche essendo un tecnico, avevo difficoltà a pianificare il mio futuro. Decisi quindi di attraversare l'oceano e mi andò benino. Comunque, giunti in Canada, ci incontrammo con qualche amico. Di quei tempi, in Canada arrivavano molti italiani e da Sette Frati arrivavano a barca intere. Ci incontrammo con un mio amico, un certo Giuseppe Palombo, e discutemo un po' le nostre opinioni circa quello che abbiamo trovato qui a Toronto, in Canada, dei nostri compaesani, che ce n'erano tantissimi, e notammo che si aveva bisogno di radunarli, di tenereli insieme, di sopportarci l'uno con l'altro. Quindi creammo la Canada Society, allora chiamato il Comitato Pro Sette Frati, con il quale fumo capaci di radunare centinaia di persone, centinaia di famiglie, non di persone, perché poi ogni persona rappresentava una famiglia. Ma la maggior parte erano tutte di prima generazione, cioè gente che era emigrata qui pochi anni prima di noi, 20 anni, 30 anni prima, 10 anni, ma tutti pronti ad accoglierci, ad ascoltare le nostre proposte. Quindi fecemo proposta di creare questa associazione come un'associazione culturale per poterci incontrare, parlare e discutere dei cambiamenti in patria e nel frattempo l'indegrazione necessaria per vivere in Caratà. Quindi nacque il Comitato Pro Sette Frati. Presto fu notato che molti dei membri avevano, come anche noi, la grande devozione alla Madonna di Canneto che è nel territorio di Sette Frati e quindi decidemmo di espandere gli orizzonti dell'associazione a includere non solo Sette Frati, ma tutta la Val Colino. Quindi cambiamo il nome del Comitato Pro Sette Frati a quello della Canneto Society, cioè un nome che di rappresentanza molto più ampio che solo il paese di Sette Frati. questo fu un altro successo, infatti radunammo molta gente della Val Comino, del Sorano, del Cassinate, eccetera, eccetera, e fu un successo ancora molto elevato al punto che decidemmo di duplicare il pellegrinaggio alla Madonna di Canneto di Sette Frati anche qua a Toronto. Quindi nel 1968 fu portata a Toronto la duplica dell'immagine della Madonna di Canneto a Toronto con pellegrinaggi in un monastero, santuario che ha delle caratteristiche molto simili a quelle di Canneto in Sette Frati. E tutto andò così, quindi abbiamo fatto delle feste culturali, abbiamo promosso cultura, tradizioni, eccetera, eccetera, sempre con la prima generazione. Passò un certo... Le cose andavano benissimo. Nel frattempo io mi ero dedicato a una carriera, una carriera manageriale che poi mi ha portato a diventare un manager internazionale, una multinazionale e quindi viaggiare molto e quindi fui meno capace di partecipare a questo programma. Fino a pochi anni fa quanto lo vedemmo in crisi, cioè quelli di prima generazione erano immecchiati oppure deceduti. La seconda generazione partecipava pochissimo e di terza generazione non c'era nessuno. Finito. Quindi si era deciso di smantellare l'associazione. Quando fui chiamato si poteva intervenire. Il mio intervento puntò subito alla terza generazione, seconda e terza generazione. Quindi avvicinare questi giovani, parlarli, chiamarli, non è stato facile, è stato un lavoro molto difficile. ma che però è molto soddisfacente. Quindi negli ultimi cinque anni abbiamo convertito la Cannes Society da quello di dire gente di prima generazione a gente che adesso rappresenta seconda e terza generazione. Quindi molto coinvolti. I giovani settefratesi e valcominesi residenti qui a Toronto che fanno parte della nostra associazione hanno una sede di cultura, di tradizione e di storia del loro paese. mi hanno raccontato storie che volevano tornare in Italia, sono tornati in Italia a visitare quei genitori quando gli è andata bene. Non sono stati accolti, non sono stati compresi. Quindi abbiamo dovuto rinnovare il loro grazie a un comitato nuovo creato di gente di seconda e terza generazione i quali i quali hanno capito esattamente cosa è successo. La malcomprensione. Quindi abbiamo risvegliato in loro questo che stiamo cercando di risvegliare in loro. Infatti, grazie a loro partecipazione di quest'amore patrico, l'amore per il proprio paese, l'amore per la cultura, la tradizione, la religione, lascia quello che sia, il risveglio alle radici, alle radici dei loro nonni. Hanno capito, sanno esattamente dove si trovano. E vi dico che la più grande soddisfazione è quella di vedere questi giovani così assetati di riscoprire le loro radici. È così che è nato che siamo adesso nella società cannele. Quindi per me il sogno di ogni emigrato è quello che la sua famiglia possa condividere con lui le stesse emozioni, quindi per me i miei figli, i miei nipoti mi fanno felici quando riescono a condividere con lui la stessa emozione, la stessa cultura, la stessa tradizione e quindi loro lo sanno e ne diventano partecipi di questo qua. Quindi è importante legare con le radici originali. Molto importante. Bisogna costruire nuovi bondi, bondi nuovi, differenti da quelli di una volta dove come prima il vecchio club che assisteva, che guardavano tra di loro e come facevano le cose tradizionali, sono finiti. Bisogna adesso stabilire dei bondi culturali con la madre e padre, con il paese nativo, con le proprie radici per riportare questi giovani in Italia. Ed oggi vedo una cosa io. Vedo che il lavorare online, la nuova tecnologia che abbiamo a disposizione, permette a questi ragazzi di lavorare in ogni parte del mondo. Quindi, Settefrate è un posto idealissimo, è bellissimo, c'è un clima, con l'atmosfera, con la montagna, con i fiumi, con le sorgenti, tutto naturale, che rende felice. Infatti, mio figlio ha acquistato una casa a Settefrati e già vive, c'è una residenza a Settefrati, come altri due o tre ragazzi nostri. Quindi, è molto importante questo cuore. Per voi, in Italia, siamo tutti uguali, ma non è così. non siamo tutti uguali. Le cose cambiano da generazione a generazione e bisogna che saper comprendere questi ragazzi, bisogna comprendere il cambiamento di ogni generazione e vi dico che ogni generazione che passa diventa sempre più difficile di riconquistarla. C'abbiamo un'Italia che vive dall'estero, c'abbiamo dei laziali che vivono all'estero che hanno fatto grandi successi e sono di seconda, terza generazione. Adesso ci arriva anche la quarta. Quindi, bisogna ravvicinarli. Io chiedo a voi di aiutarci a ristabilire questi ponti perché di qua ce la stiamo mettendo tutta. Però ci occorre aiuto anche in Natale, cioè le accoglienze. Quando arrivano questi ragazzi vanno trattati come si deve. Devono essere compresi per la loro cultura differente. Stanno cercando di riacquistare quelle che hanno perso attraverso le generazioni. Qui a Torrono siamo riusciti a questo lavoro con la Caneta Society con questa situazione a scopo lucro. Siamo riusciti a coinvolgere oltre 50 giovani di origine dello spettacolare paese di Settefrati. Volendo parlare anche di Bicinisco, di tutto la Valcomino. Settefrati comunque è la perla della Valcomino ed è bellissimo, c'è delle vedute bellissime. purtroppo è stata colpita in massa dall'immigrazione e qui ce ne abbiamo tanti di Settefradesi, tantissimi. Quindi il nostro lavoro è quello di creare nuove forme di legame, però non possiamo crearli da soli senza l'aiuto dell'amata patria. Quindi, io nel frattempo riconosco e ringrazio il sindaco Riccardo Frattaroli, il sindaco di Settefrati, per avermi nominato con il titolo di Town Ambassador che mi dà grande responsabilità e quindi con questo voglio essere un vero ambasciatore, ma non solo un ambasciatore di Settefrati a Toronto, un ambasciatore anche da Toronto a Settefrati ed in Italia e nel Lazio. Io faccio parte anche del, sono un socio del Club Jociaro anche, oltre che essere il presidente della Canadian Society, sono un socio del Social Rock Club di Toronto e negli ultimi tre anni direttore della federazione Lazio dell'Ontario. Quindi, mi sono messo dovunque io possa purché aiutare i giovani e dare i nostri giovani Settefrati della Valcopina e del Lazio a riintegrarsi culturalmente con le loro origini e le loro radici. quindi, detto questo, non mi resta altro che dire. Sono contento che con Claudia Battioli e con Riccardo stiamo producendo questo nuovo metodo di ripopolare Settefrati, cioè ridare Settefrati una vita, riportando investitori a Settefrati, riportando emigrati di seconda e terza generazione dei Settefratesi i quali potranno aiutare molto. Come ha fatto il signor Ciacca a Piccinisco, io lo ammiro tantissimo, vedo che lui ha preso un'iniziativa principale, personale. Io guardo non solo a quella personale, guardo a quella della nostra società, la Canneto Society, il Club Jociaro e la Federazione Laziale in Canada. quindi volevo dire solo questo, grazie e dateci una mano se potete. Grazie Toni, grazie sentitamente anche per l'impegno che stai veramente che ci stai mettendo soprattutto per il coinvolgimento dei giovani. Ne parlavamo prima come il turismo delle radici è fondamentale non soltanto per creare ponti ma anche per far rimanere le nostre anche nuove generazioni che hanno bisogno di motivo per restare ed è fondamentale per contrastare questo fenomeno dello spopolamento delle piccole aree dei borghi che richiamava pure prima Cesilio quando diceva se chiude il bar della piazza finisce tutto finisce anche la chiesa chiude tutto pian piano i nostri i borghi perdono le generazioni future che invece devono trovare un motivo e delle ragioni per restare su questo mi sento di dire veramente non perché rappresenta un'istituzione ma come regione Lazio stiamo facendo tanto avremo anche un piano triennale per i piccoli comuni dove per aiutare i sindaci a pianificare e programmare interventi nei vari settori perché ovviamente soprattutto i piccoli comuni fanno difficoltà hanno bilanci esigui e le istituzioni gli enti sovraordinati devono dare assolutamente una mano con una programmazione perché soltanto programmando e avendo chiara qual è la visione e questo vale per tutto per il turismo per gli interventi che si fanno per gli enti locali soltanto avendo una visione una programmazione si riescono poi a dare a dare l'atterraggio si riesce a dare l'atterraggio alle misure che si devono mettere in campo quindi mi sento veramente di dirti che noi stiamo lavorando per questo per aiutare i nostri sindaci ma anche per sostenere veramente il turismo delle radici che abbiamo visto e vi ringrazio ringrazio Vanessa ringrazio Letizia Carlo Claudia Cesidio e anche te Tony grazie ai vostri contributi se prima non avevamo dubbi perché è ripeto un segmento sul quale stiamo puntando come regione stiamo collaborando con il Maici anche perché uscirà una guida proprio dedicata al Lazio rispetto alle radici italiane in collaborazione con il Maici se prima non avevamo dubbi quello che ci avete rappresentato oggi attraverso una testimonianza diretta personale attraverso contributi scientifici ci spingete e mi spingete a fare di più e meglio per i nostri italiani all'estero però anche per il nostro territorio quindi grazie veramente di cuore e prima di lasciarvi ringrazio tutti per l'attenzione e la pazienza perché sono state due ore intense ma veramente non è mai calata l'attenzione quindi ho visto tanto interesse prima di andare via vi lasciamo con di nuovo e nuovamente con le immagini del nostro video promozionale come spot di promozione della destinazione Roma e Lazio grazie ancora grazie per aver partecipato sono sicura che ci rivedremo perché questa tavola rotonda di confronto semi rotonda come diceva prima Claudio questo tavolo si trasforma in un tavolo operativo di confronto rispetto all'attività che abbiamo programmato che abbiamo messo in campo e ho bisogno anche di voi però quindi ci dovete dare una mano anche voi grazie grazie a tutti grazie grazie a tutti